Come è andato il torneo di Keyforge svoltosi nella capitale? Quale è stato il livello medio della competizione e chi è riuscito in queste due giornate volte a forgiare chiavi a prevalere sugli altri forgiatori presenti in loco? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In data 23-24 aprile, in quel di Roma, si è tenuto il torneo di Keyforge all'Arcade & Food. Per l'occasione alcuni tra i migliori forgiatori provenienti dalla nostra bella penisola, con ben due rappresentanze originarie dalla Francia, si sono sfidati in questo torneo che ha regalato un grandissimo spettacolo. Un ringraziamento di cuore va a Matteo Perisi, Daniele Frattarelli e Daniele Casali del Network che hanno reso possibile questa giornata ed aver pensato a me per la fase della diretta streaming, che potrete trovare attraverso il link che vi lascerò in descrizione. A Carmelo Massimo Tidona, che come sempre ha condotto un arbitraggio degno del miglior giudice di gara, a Chiara Fabrizio per le fantastiche foto durante l'evento, agli sponsor presenti in loco, il Golden Store Talenti di Roma e la Z Car Trading, agli spettatori che mi hanno accompagnato durante la diretta e a tutti i partecipanti dell'evento che hanno dato il massimo per regalare una degna esibizione che non ha lasciato di sicuro insoddisfatti tutti i telespettatori e gli spettatori giunti in loco per assistere fisicamente all'apertura delle numerose cripte che si sono scoperte in quel dell'Arcade and Food. Prima di iniziare però, so che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non siete ancora iscritti. Pensate che se tutti voi vi iscriveste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 iscritti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Dateci una mano. Inoltre vi invito ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Ed ora scopriamo assieme come si è svolto il torneo di Roma attraverso un riassunto delle due giornate che hanno visto il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo splendere attraverso la sua community. Andiamo a dargli un'occhiata. E così come sempre sono partito affrontando un viaggio che dall'Aquila, città dove vivo, a Roma, lavori stradali perenni sulla A24 permettendo, non ha mai rappresentato un grosso stress. E quindi, giunto a destinazione, mi sono apprestato a trovare posto per precipitarmi a capofitto in questa nuova avventura sul crogiolo. Finalmente sono arrivato. Ho appena parcheggiato e l'Archiven Food è proprio lì. L'evento, partito ufficialmente con le registrazioni dalle 9 di mattina di entrambe le date, si è svolto in due giornate e ha visto due main event. Il primo con quattro turni di Svizzera, Arconte Sascap 80 Best of One, con top 8 sempre Arconte Sascap 80, ma questa volta al meglio delle tre partite, ed il secondo con sempre quattro turni di Svizzera giocati con modalità Control the Triad Best of One, con top 8 tripletta Best of Three affiancati da due side event che hanno visto un Sealed Dark Tidings 2 Mazzi e un Arconte Sascap 75. Ogni torneo main e side ha generato un punteggio in base ai piazzamenti di ogni singolo forgiatore, che al termine della seconda giornata ha strutturato una graduatoria, il quale, primo classificato, si sarebbe portato a casa una plancia con al suo interno più di 4.000 giochi arcade. Durante la live ho assistito personalmente a scontri memorabili, essendo il livello dei partecipanti medio-alto. Nella prima finale, maestro ed allievo, rispettivamente nelle vesti di Damiano Dammat De Prosperis e Davide Giorgini, hanno offerto uno show degno di nota che ha sorpreso il pubblico e i presenti, quando Davide, senza esclusione di colpi, ha tenuto testa a Dammat fino all'ultima ambra, giocando un match davvero straordinario. Che, però, lo ha visto capitolare sotto l'esperienza di Damiano, che quindi per il torneo SASCAP 80 si è aggiudicato il primo posto. Nella seconda giornata, invece, la Francia l'ha fatta da padrona, piazzando in finale entrambi i suoi rappresentanti, Martin Monnier e Nicolas Pilven, che, nella fase conclusiva dell'evento Tutto da rivivere, hanno offerto un tris di match davvero sbalorditivi. Dopo uno scambio di botte e risposta, conclusosi a favore di Nicolas, ed un secondo match ripreso per la cuffia e vinto d'orgoglio da parte di Robin, l'ultimo atto ha visto un epilogo al cardiopalma, conclusosi per una singola ambra di distacco, che ha eletto Nicolas vincitore del main event, aggiudicandosi il premio di primo classificato. Per i side event, invece, lo stesso Nicolas Pilven si è portato a casa anche il trofeo del Silled Due Mazzi Dark Tidings, mentre è spettato ad Alfredo Maffi occupare il gradino più alto del podio, che lo ha visto uscire vittorioso dal torneo Arconte SASCAP 75. E dopo un calcolo dei vari punti accumulati da tutti i forgiatori partecipanti, la classifica generale ha dato ragione a Dammat, che si è aggiudicato l'ambito trofeo rappresentato dalla plancia di gioco offerta dall'Arcade Design Mibrio. E così, a fine serata, mi sono rimesso in viaggio direzione L'Aquila, per iniziare a tirare le somme di queste due magnifiche giornate passate, come sempre, in ottima compagnia. Eccomi arrivato, ora non mi resta altro da fare che tornare in studio per trarre le conclusioni su tutto ciò che è successo in queste due giornate di eventi. Conclusioni e riflessioni in proposito. Di sicuro mi sono divertito, ed è stato un vero piacere aver rivisto facce amiche che mi hanno come sempre fatto sentire a casa, in un locale che oramai consiglio davvero a chiunque mi chieda una meta culinaria nella capitale. Quello che ho notato tra una partita e l'altra è stato, come sempre, il perfetto clima di sportività ed amicizia che contraddistinguono questi eventi. Le fotografie scattate da Chiara Fabrizio sono la prova concreta di quello che sto dicendo, e che, essendo relativamente stati pochi giocatori, ma con una conoscenza immensa del gioco, anche i nuovi forgiatori, ce ne erano due presenti in loco, hanno potuto testare, affiancati ad esperti della forgia, le loro abilità. Quindi non snobbate questi piccoli tornei solo perché c'è stata poca gente. Se il livello di chi ha partecipato è stato molto alto, voglio ricordare che Dammat è uno dei migliori giocatori al mondo di Keyforge, di sicuro potrete trarre solo un enorme giovamento per incrementare le vostre capacità di lettura del campo di battaglia e delle strategie rivali, facendovi consigliare da chi ha più esperienza di gioco alle spalle. Alla fine di ogni torneo c'è sempre un momento di relax dove poter scambiare quattro chiacchiere con i presenti, ed esorto ogni singolo forgiatore in erba ad approfittare dell'occasione per scoprire sempre più aspetti riguardanti il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo e tutto ciò che gli ruota attorno. Consiglio quindi vivamente di partecipare a questi tornei organizzati dal network e anche da altre fonti, anche solo come spettatore, un saluto a Fabri, per rubare con gli occhi tutte le varie sinergie di carte negli unici di chi sta partecipando per comprendere meglio anche il funzionamento dei propri deck. E voi, credete che questi tornei siano un buon modo per aumentare le abilità che a lungo andare potrebbero farvi valere durante un evento organizzato? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.